Allora ritengo che l'esperienza della lista civica a Motè debba terminare e portare a livello di Consiglio Comunale quella che è l'esperienza nazionale di Azione. Azione è un partito equidistante dal centro-sinistra e dal centro-destra. Il mio luogo naturale è stare all'opposizione, ma un'opposizione di distinzione rispetto a quelli che sono i partiti canonici seduti tra i banchi, mi riferisco a Fratelli d'Italia, a Forza Italia e a Lega. Non c'è nessuna volontà di passare in maggioranza, io distinguerei i due campi. A livello regionale noi abbiamo scelto di aderire a patto per l'Abruzzo e di sostenere la candidatura autorevole del professor D'Amico. In provincia stiamo governando col centro-sinistra, io ritengo che sei mesi dal voto questa maggioranza consigliare del Comune di Teramo sia coesa, unita e quindi non c'è nessun motivo di allargarla, di creare posti. Assolutamente, il mio posto rimane in opposizione, ma un'opposizione come penso di aver dato motivo in questi mesi, fatta e costruita sul buon senso, su programmi, su progetti. Laddove si richiede la mia collaborazione io non mi tiro indietro, perché i temi importanti da risolvere per la città di Teramo sono tanti. C'è un regolamento del Consiglio Comunale che prevede la costituzione di un gruppo laddove ci sono tre consiglieri comunali. Io quindi costituisco il gruppo misto, trattino, azione, in attesa che ci possano essere consiglieri coinvolti o che vogliono essere coinvolti nell'esperienza politica azionista. No, io non parlo di delusioni, parlo di scelte legittime che ciascuno può fare, può prendere. Noi a febbraio dello scorso anno abbiamo individuato nella persona di Carlo Antonetti, nell'avvocato Carlo Antonetti, un'alternativa credibile, progettualmente credibile al governo d'Alberto. Ma originariamente era un progetto centrista, moderato, che vedeva coinvolta azione e le liste civiche. Nessuno immaginava che un centrodestra nel collegio del Premier Meloni fosse incapace di individuare una candidatura alternativa al centrosinistra, quando c'è stato il coinvolgimento del centrodestra nell'appoggio all'avvocato Antonetti, noi molto responsabilmente non ci siamo tirati indietro. Abbiamo costituito una lista civica, la lista civica amo te, e io ringrazio tutti coloro che si sono candidati. Oltre il 90% di quella lista è composta da azionisti, e abbiamo portato avanti l'alternativa a Gian Guido d'Alberto. Poi abbiamo offerto, come era giusto in continuità, la tessera di azione, l'adesione al gruppo dell'avvocato Antonetti, che, ripeto, legittimamente ha scelto di aderire ad un partito perfettamente collocato nell'alvio del centrodestra. Scelte legittime, ma a questo punto l'esperienza della sua civica termina.